Lo spaventapasseri Gonario era l'ultimo di sette fratelli. I suoi genitori non avevano soldi per mandarlo a scuola, perciò lo mandarono a lavorare in una grande fattoria agricola. Gonario doveva fare lo spaventapasseri per tenere lontani gli uccelli dai campi. Ogni mattina gli davano un cartoccio di polvere da sparo e i campi, e di tratto in tratto, si fermava e dava fuoco a un pizzico di polvere. L'esplosione spaventava gli uccelli che fuggivano, temendo i cacciatori. Una volta il fuoco si appiccò alla giacca di Gonario e se il bambino non fosse stato svelto a tuffarsi in un fosso, certamente sarebbe morto tra le fiamme. Il suo tuffo spaventò le rane che fuggirono con clamore e il loro clamore spaventò i grilli e le cicale che smisero per un attimo di cantare. Ma il più spaventato di tutti era lui, Gonario, e piangeva tutto solo in riva al fosso. Bagnato come un brutto anatroccolo, piccolo, stracciato e affamato, piangeva così disperamente che i passeri si fermarono su un albero a guardarlo e pigolavano di compassione per consolarlo. Ma i passeri non possono consolare uno spaventapasseri. Questa storia è accaduta in Sardegna. Fine 26. 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 Fine 26.